Grazie Pino per l'invito, è effettivamente splendida questa vista da qui con tantissimi delegati, è la prima volta che partecipa a un congresso degli architetti in rappresentanza della rete, anche perché negli ultimi sei anni non c'è stata l'occasione, però è evidente che questo è un momento importante, ancora più contento perché, anche se timido, però un applauso da ingegnere me lo sono preso qui, a dimostrazione che siamo tra amici ancora di più dopo l'intervetto di Cantone che ha dato notizia di questa nota inviata a nome dell'ANAC per far lavorare gli ingegneri, vi assicuro non l'ho mandata io, quindi non è colpa mia se questo evento in qualche modo è stato riportato, però mi fa molto piacere essere qui e rappresentare la rete delle professioni tech, un organismo che ormai ha quasi cinque anni di vita, sul quale abbiamo investito tutti i presidenti, ma tutti i consigli nazionali, tanto lavoro, tanto impegno, in una logica importante di sussidiarietà tra noi e anche di forza che stare insieme ci dà nell'interlocuzione pubblica, nell'interlocuzione con la politica, perché sapete bene che in questo Paese avere buone idee, fare buone proposte non basta, bisogna avere la forza, la capacità e anche l'attenzione da parte del mondo politico, del mondo delle istituzioni, perché le cose che tu dici possono poi concretizzarsi in provvedimenti, in atti legislativi, in norme che poi dobbiamo applicare noi. Non basta nemmeno dire che vogliamo essere sussidiari allo Stato in ragione della nostra funzione terza, che è quello che sta riportato all'interno di quell'articolo 5 del Jobs Act del lavoro autonomo, che è un principio fondamentale che noi abbiamo chiesto con forza, altrimenti non credo che la politica poteva darci questo impegno se non volevamo noi averlo. Però paradossalmente sono passati sei mesi della delega per fare questo tavolo di lavoro, per vedere dove effettivamente, in quali ambiti, su quali compiti potevamo essere sussidiari e avviare anche quel processo di semplificazione e di acceleramento delle procedure, che credo che sia una delle cose fondamentali. Bene, sono sei mesi e il Ministero del Lavoro non ci ha convocato, non ci ha dato la possibilità di lavorare su questo, non solo a noi ma anche alla Presidente Calderone, siamo andati più di una volta a parlare col Ministro dell'Epoca. Speriamo che si riapra questa finestra, perché paradossalmente essendo la delega scaduta non si sa se ci vuole un'altra norma che ci dia la possibilità di rimettere in piedi questa delega. E allora sono ancora più contento perché il tema che è posto e anche la relazione del Presidente ci vede assolutamente concordi come rete, non a caso ci siamo visti con Piro più volte, abbiamo ritenuto che questo lavoro che gli architetti meritoriamente stanno portando avanti deve diventare la base per un'attività anche della rete delle professioni tecchie. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro ad hoc, lo chiameremo qualità della costruzione, non vogliamo invadere il campo di nessuno, ma sicuramente l'opera di architettura è anche un'opera di ingegneria, ma è anche un'opera che riguarda altre professioni, sostanzialmente sono le costruzioni che devono avere la qualità. Tutti gli interventi riguardano non solo l'opera civile, l'opera edile, ma anche le infrastrutture. Se immaginate che la metà del suolo che viene consumato da alcuni anni a questa parte è quasi esclusivamente, anzi la metà è per infrastrutture, quindi per opere a servizio anche delle città, per opere di collegamento, per opere dei trasporti e quindi anche lì la qualità è fondamentale, così come bisogna superare questi meccanismi di affidamento degli incarichi. Guardate, Cantone ha ragione quando dice che questo codice degli appalti ha stabilito un concetto importante, ma l'abbiamo fatto proprio come rete, ci siamo impegnati tantissimo e abbiamo avuto l'ANAC a fianco in questo, non ce lo dimentichiamo. La centralità della progettazione non era un principio che stava a base della prima legge delega portata all'attenzione del Parlamento, è intervenuta dopo, nel frattempo c'è stato qualche piccolo scandaletto al Ministero delle Infrastrutture che in fondo ci ha dato una spinta, però questo principio non era granché condiviso e ancora oggi, quando sento parlare di mandare in soffitta il codice degli appalti, mi preoccupo che dietro ci possa essere qualcuno che lo faccia non per semplificare, non per accelerare, ma per riportare o per mettere e rendere marginale ancora una volta la progettazione come è stata per troppi anni. E se sono cresciuti i servizi di ingegneria e architettura, e questo costa dai tanti lavori, dalle tante ricerche che abbiamo fatto, è proprio perché questa norma finalmente ha messo al centro la progettazione e obbligato le amministrazioni a fare loro le progettazioni, casomai dandole all'esterno. Anche questo era un aspetto che si era perso nel passato ed è evidente che anche questo contribuisce sicuramente ad aumentare la qualità delle opere che andremo a realizzare, perché è giusto, senza una buona progettazione, senza fare e trovare le modalità giuste per affidare gli incarichi, non si potrà mai realizzare buone opere. Ed è evidente che sul principio dei concorsi di progettazione, sul principio dell'eliminazione dei requisiti economici e fiscali, che sono quelli che purtroppo ancora adesso in perverso, anche qui devo dire l'ANA che ci ha dato una mano, ma non siamo riusciti fino in fondo a determinare quel passaggio fondamentale. Qualche cosa l'abbiamo fatto con la curva bilineare per l'affidamento degli incarichi, evitando i ribassi eccessivi, ma anche qui troppo spesso le amministrazioni non ci hanno seguito o cercano di derogare. Sono tantissimi i bandi che andiamo a contestare. Probabilmente dei corsi di formazione obbligatori per i responsabili del procedimento sarebbe utile qui come professioni. Potremmo anche cominciare a pensare che sia giusto farlo, anche perché qui chiudo il tema della formazione è fondamentale. La rete sta cominciando a pensare a una formazione che vale per tutti. Guardate, non c'è una primazia culturale tra una professione e l'altra. Ognuno ha la sua specificità, la sua competenza. L'importante è che tutti mettiamo a fattor comune le nostre esperienze, le nostre conoscenze, per essere più forti e più capaci di rappresentare tutto il mondo delle professioni. Però è evidente che una formazione comune è un'organizzazione di formazione comune che vada veramente a individuare, ossia da accompagnamento per i 30-40 anni di vita di un professionista. Perché la formazione universitaria è importante, ma non è quella che fa il professionista. Il professionista viene creato nei 30-40 anni di professione dove ogni giorno deve continuare a studiare, ogni giorno deve continuare a impegnarsi, ogni giorno deve fare esperienza. Questo mondo di formazione, chi lo deve seguire? Non certo l'università, non possiamo andare all'università, ma gli ordini qui hanno una responsabilità fondamentale. Quindi una scuola di alta formazione che accompagni gli ordini, le organizzazioni professionali, i professionisti nel migliorare le proprie qualità e renderle soprattutto leggibili, spendibili all'esterno. Perché questo lavoro di formazione e di preparazione che facciamo all'esterno non è visto, non è comprensibile. Prova ne è che i requisiti per le gare sono requisiti economici, quelli che lo Stato riesce a conoscere di ognuno di noi. Ma sappiamo perfettamente che non sono quelli che i requisiti importanti. I requisiti sono la qualità intellettuale, le capacità, le conoscenze, l'esperienza che si fa soprattutto nel periodo post laurea. Allora questo è quello che cercheremo di organizzare come rete, perché uno sforzo importante lo dobbiamo fare tutti e lo dobbiamo fare anche con le casse. Le casse in questo ci devono dare una mano. Spesso le abbiamo invitate a dare un contributo alle nostre idee, alle nostre proposte, perché insieme alle casse saremmo più forti. Stiamo cercando di creare, lo abbiamo fatto già con il CUP, un'alleanza che ormai è stabile, costante, fortissima e anche capace di ottenere straordinari risultati, come quello dell'eco compenso. Però bisogna andare oltre. Abbiamo anche bisogno di risorse. Le casse devono pensare che investire o dare un contributo a queste iniziative degli ordini. Alla fine serve anche e soprattutto alla sostenibilità della loro organizzazione, della nostra organizzazione, perché le casse sono nostre. Quindi vogliamo che continuino e lavorino bene e siano soprattutto sostenibili, come la legge ci impone a 50 anni. Questo è quello che continueremo a fare insieme nella rete, insieme al CUP, insieme alle casse, insieme a tutte le professioni che vogliono riconoscersi in un processo di ammodernamento e di riorganizzazione. La riforma ci ha dato tantissimi impegni. Non c'è professionista al mondo che abbia tutti gli obblighi a un professionista in Italia. Bene, io credo che la politica debba essere orgogliosa di queste professioni, orgogliosa anche degli architetti che oggi hanno presentato un manifesto di straordinario interesse e di straordinaria qualità. Grazie veramente per questo, Pino, e lavoreremo insieme su questo. Grazie. 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 Grazie.